Tragedi a Senigallia, padre e figlio muoiono investiti da un paio. False esenzioni da vaccino, indagati due medici pesanti. Borgo pace, albero cade sulle auto in sosta nella piazza. Affano, vandalizzati manifesti elettorali di Giorgia Meloni. Italservice e Loreto Baskeri parte la campagna abbonamenti congiunta. Gentilissime telespettatrici e gentilissimi telespettatori ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione serale di Rossini TV con il format Rossini News in diretta anche sulla nostra pagina Facebook non solo sul canale 80 del Digitale Terrestre. Oggi, giovedì 18 agosto, apriamo il telegiornale con una notizia che arriva da fuori provincia. è stata purtroppo una tragica notizia. Parliamo della tragedia che si è consumata ieri sera intorno alle 21 a Senigallia. Padre e figlio Umbri in vacanza nelle Marche sono morti, travolti da un treno merci poco più a nord della stazione di Senigallia. Dalle indagini in corso e dalla ricostruzione degli agenti della Polfer sembrerebbe che il ragazzo di 26 anni, in seguito a un diverbio familiare, abbia scavalcato la massicciata della ferrovia posizionandosi sui binari ed esternando l'insano gesto di farla finita. Il padre sarebbe accorso sul posto per farlo desistere, ma entrambi sono stati investiti da un treno proveniente da Bologna. La linea ferroviaria tra Marotta e Senigallia è stata sospesa per oltre tre ore. Domani alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Loreto a Pesaro si svolgeranno i funerali di Massimiliano Lugli, morto a 49 anni, gli ultimi sette dei quali trascorsi in coma. Massimiliano, lulo per gli amici, il 30 marzo 2015 incappò in un terribile incidente in sella al suo scooter in strada del Monte Feltro. Troppo gravi furono i danni cerebrali riportati che lo costrinsero a sette anni di stato neurovegetativo. Era ricoverato nella clinica Santo Stefano a Villa Fastigi e ieri a dare l'annuncio del decesso sono state la moglie Laura, le due figlie, il padre Giorgio e la madre Flora. Un altro caso relativo ai vaccini anti-Covid scuote il Tribunale di Pesaro. Vediamo di che cosa si tratta in questo servizio. Ad una settimana dalla prima sentenza sul territorio pesarese che ha visto un giudice rigettare il ricorso di un medico che si è opposto alla sospensione dell'ordine in seguito al suo rifiuto al vaccino anti-Covid posteriore alla guarigione del virus, c'è un altro caso relativo ai sieri anti-Covid che scuote il Tribunale di Pesaro. Un caso diverso perché a finire sotto inchiesta questa volta sono due medici di base pesaresi di 60 e 62 anni sospettati di aver prodotto una ventina di certificati di esenzione dal vaccino a beneficio di altrettanti professionisti del settore sanitario e dunque a norma di legge obbligati ad essere vaccinati. O meglio, obbligati a meno che non si riscontrino patologie tali da andare in conflitto con la somministrazione del vaccino. Quelle condizioni di salute avverse alle somministrazioni che sono emerse nei certificati stilati da due medici. Dalle carte emerge anche che i due indagati si sono rilasciati a vicenda all'esenzione e soprattutto che quasi tutti i beneficiari, circa una dozzina per medico, nel corso del 2021 risultano aver cambiato medico di base in favore della lista pazienti dei due indagati. Secondo la procura, l'ipotesi è quella di falsi certificati sulla base di condizioni di salute avverse non documentate. Il magistrato titolare dell'inchiesta ha ascoltato anche i precedenti medici di base dichiaratisi non a conoscenza delle patologie successivamente certificate dagli indagati. Due medici indagati che oggi sarebbero dovuti comparire in tribunale per l'interrogatorio, ma gli avvocati hanno chiesto un rinvio in considerazione del periodo feriale e sono pronti a dare battaglia su procedure dichiarate legittime. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Ci arrivano da Fano le foto di una serie di manifesti nella campagna elettorale di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, brutalmente vandalizzati. Croci e annerimenti di vernici ad oscurare slogan è il volto del leader di partito su diversi manifesti apparsi in città. Dalla zona dell'ospedale a quella di San Lazzaro, da Sant'Orso a Sassonia. Fratelli d'Italia Fano attraverso la propria pagina Facebook ha pubblicamente stigmatizzato il gesto ricordando come la campagna elettorale vada fatta sui contenuti e non sull'imbrattamento e la denigrazione dei programmi avversari. Ricordiamo anche che ieri Giorgia Meloni ha annunciato che il suo tour di campagna elettorale comincerà proprio nelle Marche, ovvero da Piazza Roma di Ancona martedì 23 agosto alle ore 18. Le immagini che vi mostriamo ora arrivano direttamente da Borgo Pace dove questa mattina nella piazza del Comune un pino sferzato dal vento ha visto staccarsi un grosso ramo che è caduto sulle auto in sosta. Non si segnalano persone ferite. I vigili del fuoco sono intervenuti per tagliare la pianta caduta e liberare le auto. Cambiamo argomento perché Pesaro, capitale della cultura e città della musica, è pronta ad accogliere un nuovo festival. È la prima edizione del Bel Canto Ritrovato. Riscoprire i compositori dimenticati dell'Ottocento. È questo il tratto distintivo della prima edizione del Festival Nazionale il Bel Canto Ritrovato pronto ad esordire martedì 23 agosto al Teatro Rossini per il primo di 11 appuntamenti che proseguiranno fino al 10 di settembre. Oltre a Pesaro ad ospitare questa avventura immersa nell'opera saranno anche le città di Fano, Urbino, Osimo, Arcevia e Montemarciano per un festival nato dall'idea di Rudolf Colm appassionato di Bel Canto affiancato da Saul Salucci presidente dell'orchestra sinfonica Rossini. Sono compositori e composizioni che all'epoca ebbero un grandissimo successo tant'è vero che frequentavano i luoghi di cultura più importanti dal Teatro alla Scala al Teatro Valle di Roma al San Carlo di Napoli quindi in quel momento erano allo stesso livello dei tre big che oggi ricordiamo Rossini, Donizetti e Bellini. Poi la storia come spesso accade traccia una riga e alcuni vengono ricordati altri no. La nostra operazione è cercare di riscoprire questo enorme patrimonio tutto italiano va detto che desta tanto interesse soprattutto all'estero per cui abbiamo già avuto tante richieste di spettatori stranieri per partecipare agli appuntamenti. Sì, saranno undici spettacoli al pubblico ne ricordo alcuni il 23 si debutta con la farsa cecchina suonatrice di Ghironda o con musica di Generali direttore Daniele Agima la regia di Davide Garattini Raimondi. Poi abbiamo uno spettacolo a Fano dedicato al Teatro della Fortuna dedicato agli operisti marchigiani nell'otto di questi compositori che andremo a riscoprire che sono circa 50 molti erano marchigiani. Poi due concerti lirico-sinfonici con l'orchestra quindi l'orchestra sinfonica Rossini che è organizzatrice e l'orchestra di riferimento del festival il primo il 25 al Teatro Rossini la serata in cui proprio eseguiremo musiche che sono state eseguite addirittura certe volte alle prime della scala. Il 27 ad Urbino un altro concerto con l'orchestra che riproporrà il modo di fruire musica che si faceva al di fuori dei teatri. Sarà un modo molto fresco di proporre tanti diversi generi all'interno sempre di questo periodo di riferimento. La direzione artistica del festival è stata affidata al noto direttore artistico dell'orchestra sinfonica Rossini Daniele Agiman. Vuol dire un lavoro di ricerca musicologica andare alle fonti riscoprirle ripulirle darle in mano un grande musicologo che le possa riportare in notazione moderna e poi farle studiare a interpreti che non conoscono l'opera quindi un'avventura di riscoperta a tutti gli effetti a 360 gradi che investe tutta una struttura operativa. Continuano le risate all'arena BCC con i tanti appuntamenti di teatro dialettale andiamo a conoscere lo spettacolo in scena domani nell'anfiteatro fanese. Da Peser a Urbini e da Urbini a Peser in realtà si tratta di una commedia comica scritta da Paolo Cappelloni che è un pesarese docco praticamente io pensavo ci fosse rivalità tra Peser e Urbino invece lui mi ha detto no noi abbiamo la rivalità tra Peser e Fano Urbino è come se non c'è fossa comunque la scritta è lo stesso nel giro di un mese l'abbiamo rappresentata due o tre volte e questa sarebbe la sesta volta che la rappresentiamo è in parte in dialetto urbinate e la controparte in dialetto pesarese praticamente è la stessa cosa ma fatta con due dialetti diversi è sicuro che si ride questo è certo almeno fino adesso è andata così da meno di un mese ha aperto a Peser un negozio molto particolare si chiama Times Square e offre un vero e proprio viaggio nel tempo dell'arredamento da circa una ventina di giorni la città di Peser si è arricchita di un nuovo punto di vendita unico nel suo cenere Times Square Antichità e Vintage siamo con Dario Pedini titolare di questa nuova attività al quale chiediamo che cosa porta di nuovo questa Times Square in città allora innanzitutto porta qualcosa di bello perché Times Square sarebbe per noi non solo il celebre località americana ma la piazza del tempo quindi quando tu varchi la soglia entri in un'altra dimensione bella e stupenda dove trovi tutta una serie di mobili antichi dell'Ottocento della metà del Novecento adatti per arredare locali studi, case non solo classiche ma anche moderne infatti tutti i pezzi che abbiamo sono frutti di un lavoro di ricerca e di selezione girando per l'Italia e anche per l'Europa presso i migliori antiquari o presso le migliori fiere dell'antiquariato selezionando tra 10.000 pezzi i due, i tre, i quattro, i cinque più belli che ci hanno colpito i più originali i più particolari i più belli quelli d'epoca e che possono adattarsi appunto anche a più contesti quindi offriamo con questo negozio innanzitutto come ho detto prima l'entrare in un'altra dimensione storica affascinante ma soprattutto un servizio il servizio è di trovare solo pezzi selezionati e quindi già questo è un grosso servizio a favore del cliente e l'altra riuniti in un unico spazio che invece a noi diciamo è costato tempo ricerche, lavoro, selezione girando per l'Italia e per l'Europa e invece il cliente li trova tutti qua infatti in metà del nostro lavoro consiste al di fuori del negozio non solo dentro il negozio il negozio è strutturato in maniera tale da favorire sia l'acquisto mirato sia diciamo l'ispirazione che la stessa allestimento può dare a suggerire acquisti originali certo innanzitutto è un negozio come dicevo prima dove varcando la soglia entri in un'altra dimensione ed è un negozio da scoprire da scoprire ogni mese perché essendo tutti pezzi unici e originali ne troverai 200 questo mese e magari tra un paio di mesi ne troverai 100 differenti perché sono sempre unici e originali in base a quello che abbiamo trovato e selezionato prima cosa poi è un negozio ampio con tre locali dove ci sono anche vari stili lo stilo elegante classico lo stile rustico lo stile vintage quindi tutte le persone anche i più giovani anche i ragazzi possono trovare qualcosa che va bene per loro e poi a livello di funzionalità puoi trovare il pezzo importante che tu magari stavi cercando per impreziosire la tua casa come può essere la poltrona viennese Freddy Schottoschmidt piuttosto che la dormese in ciliegio del 1800 e trovi un pezzo che ti soddisfa e ti cambia diciamo per esempio il soggiorno oppure può essere l'arredatore o la persona che deve rimettere a posto la casa dopo i lavori e cerca non un pezzo ma magari tre pezzi cinque pezzi dieci pezzi con cui dare gusto e stile con una serie di complementi d'arredo al proprio locale quindi trova magari l'insegna la lampada antica piuttosto che il mobile piuttosto che gli sgabelli piuttosto che un reperto storico con cui da gusto e stile che le persone poi che visiteranno il suo locale non noteranno ovviamente la differenza da oggi a Villa Imperiale splendida residenza pesarese immersa nel San Bartolo si potranno celebrare i matrimoni durante il periodo estivo a prevederlo è il protocollo sottoscritto dal vice sindaco Daniele Vimini dall'assessora all'innovazione Francesca Ferenquellucci e da Alessandra Castelbarco Albani componente della famiglia proprietaria della villa l'accordo punta alla valorizzazione di luoghi storici del territorio e a breve potrà essere sottoscritto anche con Villa Catani Stewart Villa Miralfiore Villa Berloni e Villa Caprile continua il Rossini Opera Festival e domattina arriva un nuovo appuntamento con la rassegna Rossini Mania alle 11 al Teatro Rossini sarà proposto il Sogno dell'Orso un intrattenimento musicale ideato da Sergio Ragni sabato 20 invece ultimo appuntamento con i concerti del Bel Canto alle 16 sarà Barbara Frittoli ad esibirsi al Teatro Rossini ed ora lo sport è ripartita oggi la stagione della Megabox Vallefoglia tornata in palestra alla Pala Dionigi di Montecchio per il primo giorno di allenamenti agli ordini del confermato coach Fabio Bonafede presenti nove atlete all'appello mancano la capitana Tatiana Kosceleva che sta completando il recupero dall'infortunio e l'americana Merete Lutz che raggiungeranno il gruppo nei prossimi giorni andranno aspettate ancora le nazionali Misha Hancock e Maya Aleksic che giocheranno i mondiali con le nazionali di Stati Uniti e Serbia e sono ripartiti anche gli arriamenti della Fiorini Pesaro Rugby i Kiwi giallorossi sono tornati ad allenarsi al Totti Patrignani agli ordini del tecnico Augusto Allori in vista della stagione 2022-2023 che li vedrà esordire il 2 ottobre sul campo della Lazio Rugby e ancora sport la settimana scorsa vi abbiamo presentato l'importante ingresso di Lorenzo Pizza nella società del Loreto Basket oggi lo stesso Loreto e l'Ital Service di Calcio A5 hanno presentato la loro curiosa campagna abbonamenti congiunta una bambina con la maglia rossa e il tricolore cucito sul petto dell'Ital Service di Calcio A5 assieme ad un bambino in divisa gialla del Loreto Basket ora brandizzata Ital Service traduzione in immagini di un futsal che a Pesaro stringe la mano alla pallacanestro in maniera inedita ovvero l'unione ufficializzata una settimana fa che porta l'impegno di Lorenzo Pizza patron dell'Ital Service a sostegno del rilancio della storica società di basket cittadina impegno che da oggi si traduce anche in una campagna abbonamenti congiunta quella che è stata presentata nella sede della società cestistica e che dà il via a mercoledì 24 agosto ad una campagna di fedelizzazione ai due sport con l'obiettivo ambizioso di creare dei doppi tifosi chi vuole sottoscrivere l'abbonamento a Ital Service noi siamo felicissimi se vorrà anche sottoscrivere l'abbonamento per il Loreto per questo diamo la possibilità apriamo la biglietteria mercoledì e venerdì mercoledì al Palafiera e venerdì qui nella sede del Loreto per dare questa possibilità di fare questo doppio abbonamento chiaramente il sogno sarebbe di avere tutti gli abbonamenti di Ital Service calza 5 anche con il Loreto basket questo è un sogno speriamo io e i miei amici già lo sto chiedendo quindi poi vedremo se ci riusciremo 50 euro il prezzo dell'abbonamento per l'Ital Service cioè una cifra dimezzata rispetto ai 100 euro della tessera di un anno fa abbonamento valido per tutti i tifosi sopra i 18 anni i minorenni entreranno al Palafiera gratuitamente anche quelli fra i 14 e i 18 anni che fino a un anno fa pagavano il ridotto l'Ital Service si toglie dunque un'entrata al botteghino per costruirne un'altra proponendo a 50 euro un abbonamento al Loreto Basket finora a ingresso libero questa è l'idea mia nostra mia perché diventando anche il mio sponsor del Loreto abbiamo voluto tra virgolette favorire diciamo il Loreto in quanto non ha mai fatto gli abbonamenti e quindi abbiamo così diciamo tolto una quota una fetta degli abbonamenti di quello che era l'incasso degli abbonamenti dell'Ital Service e girare al Loreto chiaramente l'anno scorso l'abbonamento dell'Ital Service valeva 100 euro abbiamo voluto così spalmarlo 50 euro per l'Ital Service e 50 euro se le persone vorranno fare l'abbonamento al Loreto quindi è giusto come hai detto tu togliere una fetta all'Ital Service e darla al Loreto messe le basi per un progetto sportivo ambizioso il Loreto ora punta ad un numero di tifosi in crescita cerchiamo di coinvolgere i giovani che ai suoi 18 anni comunque non pagheranno niente cerchiamo di coinvolgere con un minimo con rispettivo qualcuno per riempire un pochettino le palestre il palazzetto e come dicevo io prima cercheremo di allestire una squadra per ripagare della fiducia che eventualmente viene data il Loreto basket giocherà a Baia Flaminia ma nella sognante ipotesi di superamento dei 200 abbonati traslocherebbe alla Palafiera alla Baia Flaminia la struttura permette una capienza dicevamo di 200 persone se si dovesse passare quell'obiettivo già con gli abbonamenti è chiaro che dobbiamo trovare un'alternativa e sarebbe una cosa insomma che farebbe estremamente piacere per conciliare ogni esigenza l'Ital Service ha deciso di spostare le sue partite dall'abituale venerdì sera alla domenica pomeriggio abbiamo assecondato le richieste di tanti genitori che ci hanno proprio chiesto facevano fatica perché giocando al venerdì sera le partite finiscono verso le 21.30 21.45 e tanti bambini e tanti ragazzi ancora hanno scuola sabato mattina e quindi qualche genitore ci ha chiesto un attimino così di poter verificare il cambio di orario siccome abbiamo visto che la domenica pomeriggio quelle poche volte in cui abbiamo giocato ha sempre funzionato perché abbiamo portato tanta gente mi ricordo quella cui sapone abbiamo portato 1900 spettatori con Latini una partita in influente addirittura 800-850 spettatori proviamo questa nuova avventura proviamo questo nuovo orario questo nuovo giorno io sono molto fiducioso speriamo di non accavallarci con gli orari della VL quello è fondamentale spero ardentemente di no che le partite siano non nello stesso giorno nella stessa domenica ma siano un pochino falsate e per quanto riguarda invece il Loreto la partita il giorno rimane sabato sempre alle 18 quello non si tocca siamo giunti al termine di questa edizione di Rossini News prima di lasciarvi alle previsioni del tempo diamo un'occhiata ai programmi della nostra emittente questa sera alle 21.20 ci immergiamo nel sogno della tv dei viaggi andando a visitare insieme le bellezze della Costa Azzurra in Francia e ricordo l'appuntamento con le notizie domani mattina con il nostro Daniele Sacchi che condurrà la quotidiana rassegna stampa della provincia di Pesaro Urbino Buongiorno Rossini in diretta dagli studi di Veda e Gli Albeti domani alle 7.20 e anche in diretta a Facebook e in streaming attraverso la nostra app di Rossini TV come detto vi lascio alle previsioni meteo e vi auguro una bellissima serata